Buona giornata a tutti e benvenuti a questo nostro appuntamento che sta diventando ormai una piacevole consuetudine mensile. Oggi parleremo del Premio per la Pace. Il Premio per la Pace è un'iniziativa annuale istituita nel 1997 dalla Giunta della Regione Lombardia per promuovere la cultura della pace e della solidarietà per riconoscere l'impegno di uomini e donne per la costruzione della pace e della solidarietà internazionale. Quando Daniele Marconcini, presidente dell'Associazione Mantovani nel Mondo, ha chiesto cosa ne pensasse la Trentini nel Mondo della sua intenzione di segnalare Rino Zantonai come candidato al Premio per la Pace 2011, istituito dalla Regione Lombardia, non poteva che trovare totale adesione. È stato facilissimo rispondere alla domanda sul perché si ritiene che Rino possa essere candidato. Perché, è stato scritto, riteniamo che Rino Zantonai sia stato per tutta la vita un costruttore di pace. Non ci può essere pace, infatti, senza uguaglianza, emancipazione dalla povertà, rispetto dei diritti di ciascuno, amore per i nostri fratelli. Rino ha perseguito con determinazione e con assoluta abnegazione ognuno di questi principi, ha sempre messo gli interessi degli altri davanti ai suoi, dedicandosi totalmente ai valori in cui credeva. Rino è stato il primo a credere in molti dei progetti di cooperazione internazionale finanziati dalla provincia autonoma di Trento in aree svantaggiate, quali la Bosnia, la provincia del Ciaco in Argentina e il Paraguay. Ha sostenuto con forza un protocollo d'intesa fra la Trentini del mondo e la fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto, grazie alla quale la fondazione è stata ammessa come osservatore speciale all'ONU e i nostri circoli sono diventati i suoi rappresentanti ufficiali nel mondo. Alla giuria del premio stanno continuando aggiungere numerose testimonianze e messaggi a sostegno della candidatura di Rino. Chi volesse esprimere il proprio appoggio può farlo inviando una e-mail a presidentechiocciolamantovaninelmondo.org. Con questo possiamo salutarci, darci un appuntamento al prossimo mese e augurandoci entrambi una buona giornata e un buon proseguimento.